Fiorello, frecciata a Micolin Corvaia, svegliata alle del Corriere, povera ma perché che VIP è? Micolin Corvaia, ex concorrente del GF VIP, è stata stuzzicata da Fiorello nel corso della puntata di Viva Rai 2. L'ex Jeffina, nei giorni scorsi è finita in mezzo alla bufera social per lo sfogo di un Corriere. A commentare l'accaduto questa mattina è stato Fiorello che ha dato via ad una serie di sfottò. La notizia è stata letta dallo stesso Fiorello in diretta durante la puntata. Voglio che sia il pubblico a leggere la notizia. Il Corriere ha suonato alle 9, 30, mi ha svegliato e obbligata a scendere. Sono sconvolta. Così Fiorello ha introdotto la notizia. Fiorello ha commentato la notizia insieme a Biggio con notevole sarcasmo. Io spero che il Corriere sia stato arrestato subito. Si è radiato all'albo dei Corrieri. Non puoi svegliare una povera che lavoro fa? Ex concorrente del GF VIP. Poverina. Ma che VIP è? È la sorella di un'altra in Corvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi. Il VIPismo parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro, ha fatto un figlio che si è fidanzato con un'altra in Corvaia che è l'ex del cantante delle vibrazioni. Ha stuzzicato sarcasticamente Fiorello. Grazie.